ciao a tutti bentornati sul canale benvenuti alla serie car of the day una macchinina al giorno per tutto il mese di agosto se guardate i video degli giorni precedenti per vedere le macchinine che abbiamo già già visto una macchinina al giorno domani un'altra macchinina quest'oggi siamo con the mystery machine il famoso furgoncino di scooby doo questa della serie screen time quindi è riferita al cartoon di scooby doo cartoon e video alla mystery machine questa è la serie mainline del 2021 col marchio warner bros proprio quindi a scooby doo ufficiale andiamo ad aprirla eccola qua molto bella questo qua è proprio rispecchia il modello reale della della del cartoon andiamo a vedere un po più in dettaglio eccoci qua eccola qua molto bello c'è il vetri all'interno sono arancione i vetri trasparenti sembrava il vetro arancione è tutta decorata esternamente con le serie con le calcomanie del mystery machine dietro non ha niente profondo argentato questa è fatta in è difficile leggere talmente piccolo poi c'è il fondo argentato molto simpatica come macchina questa è un po come anche quella del tartaruga ninja un po hanno fatto questi due furgoncini quello vedremo nei prossimi video è cammina molto bene molto simpatica come macchinina allora questa fa parte della serie car of the day un video al giorno con una macchinina al giorno iscrivetevi al canale non perdete il video di domani con una nuova macchinina sono pillole dove presentiamo una macchinina al giorno questa molto bella perché c'ha i cerchi questi colore qua e che non sono definito per non è dorato ma c'è un cerchio colore molto bello bellissima bellissima un bellissimo furgoncino anche questa l'ho cercata per diverso tempo poi finalmente l'ho trovata nelle grandi ceste di quelli da un euro è allora domani non perdete il video di domani con un'altra macchinina guardate anche video dei giorni scorsi iscrivetevi al canale e se volete condividetelo con i vostri amici ciao a tutti alla prossima domani ciao ciao